16 marzo 2022, Giappone, forte terremoto a Fukushima. Allarma e tsunami, poi viene revocato. Il sisma ha 60 chilometri di profondità, nella stessa zona devastata nel 2011. Nessuna vittima, né danni gravi. Più di 2 milioni di case senza corrente. Deragliato un treno ad alta velocità. Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa di Fukushima, nel nord del Giappone, spingendo le autorità a lanciare l'allarme tsunami. L'evento è stato registrato alle 23.36 ora locale, le 15.36 in Italia. L'allarme è stato poi revocato dal Centro per l'allerta tsunami del Pacifico, mentre l'Agenzia Meteorologica Giapponese l'ha confermato, anche se a livello basso. Secondo la TVNHK, onde alte 20 centimetri hanno raggiunto la costa in una zona. Non si registrano vittime né danni rilevanti, ma molte persone sono state ricoverate in ospedale. Il sisma ha colpito a 60 chilometri di profondità sotto il mare. Si tratta della stessa zona devastata dal terremoto e dallo tsunami del 2011, che innescò un disastro nucleare. Allora, il terremoto fu di magnitudo 9.0. Per ironia della sorte, l'episodio accade proprio pochi giorni dopo l'undicesimo anniversario di quell'evento devastante, 11 marzo. La Tokyo Electric Power Company Holdings, che ha in gestione la centrale nucleare che ha provocato il disastro del 2011, ha fatto sapere che i controlli non hanno rivelato anomalie negli impianti in fase di smantellamento e in quelli di Tokai, localizzati più a sud, nella prefettura dei baracchi. La scossa, della durata di diversi minuti, è stata avvertita con forte intensità su gran parte dell'area del Kanto, la piana di Tokyo, provocando interruzioni della corrente elettrica. La TEPC ha riferito che circa 2.090.000 abitazioni in nuove prefetture dell'arcipelago sono rimaste senza luce. Si registra inoltre il deragliamento di un treno ad alta velocità a Shinkansen della linea Toku, che collega Tokyo a Omori. A bordo c'erano un centinaio di persone. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Fonte, www.repubblica.it-esteri-2022-03-16-news-fukushima-tsunami-giappone-341628542- Fonte, www.repubblica.it-esteri-2022-03-16-news-fukushima-tsunami-giappone-verte.